Inutili sono state le cure prestate sul cane che ieri mattina è stato ritrovato nei pressi della chiesa padre Giacomo Silvi ad Agropoli in condizioni disperate. L'animale aveva ingerito del metaldeide, un veleno pericolosissimo per la salute di cani e gatti, ma in generale un prodotto chimico molto tossico che oltre a inquinare e a contaminare gli ortaggi può essere pericoloso anche per la salute dei bambini. Il cane è stato immediatamente portato da Ilaria Procida, volontaria e da sempre impegnata nella città di Agropoli e non solo, per arginare l'abbandono dei Pellosetti, presso la clinica veterinaria Ivet Cilento, dove immediatamente hanno provveduto a somministrare tutte le cure del caso. Purtroppo però, nonostante l'intervento immediato, il povero cane non ce l'ha fatta e ieri sera è morto per un arresto cardiaco. Per chi volesse contribuire a sostenere le spese, 250 euro, che serviranno a pagare le cure che sono state somministrate, purtroppo senza un esito positivo, può farlo donando qualsiasi importo e scrivendo ad Ilaria Procida. Poldone, così era stato chiamato il cane ritrovato avvelenato da mani ignote da Ilaria Procida, che come sempre ha cercato di salvargli la vita, purtroppo non ce l'ha fatta. Protagonista di questa orribile storia è il metaldeide, un composto chimico velenoso usato come fitofarmaco contro le lumache e le chiocciole. Una cosa importante da sapere è che la metaldeide è un velino nocivo in particolare per animali domestici, quali cani e gatti. Usarla nell'orto li mette in grande pericolo. La tossicità non si limita all'ingestione, ma passa anche tramite il contatto con la pelle, seppur in maniera minore. L'avvelenamento di metaldeide causa frequente di morte per gli animali domestici, soprattutto cani di media e piccola taglia, che possono essere incuriositi dai granuli blu e a cui basta ingerire piccole quantità per essere in pericolo di vita. Anche la fauna locale, se presente nella zona, è messa a rischio da questo fitofarmaco. Il consiglio che da tempo viene dato a chi coltiva un orto è quello di utilizzare prodotti biologici in alternativa al metaldeide, che possano evitare danni irreparabili alla salute o il più delle volte la morte degli animali domestici, ma anche a preservare frutta e verdura dalla contaminazione di questo prodotto altamente tossico. Un sostituto molto efficace al metaldeide sono le foglie secche di nespole sminuzzate intorno alle piante coltivate.